Elezioni a Fano, Fanesi vince le primarie per appena tre voti. Dal centrodestra al Movimento 5 Stelle, a Pesaro si accende la partita elettorale. A Pesaro è in realtà il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Spiagge libere tirate a lucido, raccolte 20 tonnellate di rifiuti. Sport, WL e Vis vincono e possono continuare a sperare. Buongiorno a Pesaro. Aggiungendoci di un'ampia pagina dedicata alla politica, cominciando proprio da Fano, dove ieri c'è stata un'elezione vinta per appena tre voti. Quelle delle primarie del centro-sinistra, in cui il vice sindaco Cristian Fanesi l'ha spuntata al ballottaggio su Samuele Mascarin, con 1.700 preferenze contro 1.400, recuperando i 47 voti di ritardo che lo avevano visto arrivare secondo al primo turno di elezioni, in cui erano in Lizza anche Tien Lucarelli e Cora Fattori. Tre voti che dunque sono sufficienti a designare Fanesi come sfidante alle elezioni del centrodestra di Luca Serfilippi. Da Fano ci spostiamo a Pesaro, dove sono al tramonto i dieci anni da sindaco di Matteo Ricci, che venerdì sera, in una maxicena popolare, alla presenza di 1.600 commensali, ha lanciato la sua campagna verso le elezioni europee. Vediamo il servizio. La fine del lungo tour di presentazioni del libro Pane Politica, la rampa di lancio verso le elezioni europee, pedalando da Fano a Roma. Punto d'arrivo e ripartenza politica del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che si sono condensati venerdì sera nella maxicena popolare, tenutasi nel quartiere feristico di Campanara, alla presenza di oltre 1.600 commensali. Tanti cittadini su 47 tavolate, ma anche 300 esponenti del PD regionale, a sostegno del primo cittadino pesarese verso le europee. Davvero questo affetto mi riempie d'orgoglio, di soddisfazione, perché poi la politica è piena anche di tante cose che a volte ti fanno star male, ma quando poi le persone ti abbracciano così, tutti anche le arrabbiature, le fatiche passano in secondo piano e emerge il grande amore per questa terra e il grande amore per la politica che ho. Viaggio che continua, ho confermato la mia disponibilità a candidarmi alle elezioni europee, adesso aspettiamo la definizione delle liste nelle prossime settimane e lo voglio fare per dare forza all'Italia centrale, che ha un grande valore per tenere unito il paese, che rischia tantissimo con l'autonomia differenziata. Lo vorrei fare perché in Europa passano gran parte delle opportunità per la nostra terra, per il nostro paese e anche perché è spinto da tutte queste persone che vogliono avere una rappresentanza in Europa. Quindi sono a disposizione, so che sarà molto dura, è una sfida difficile, però noi le cose facili le lasciamo agli altri e quindi siamo pronti a pedalare a testa alta, come abbiamo deciso di fare dal 19 di aprile, attraverseremo l'Italia centrale in cinque giorni fino a Roma e questo sarà un viaggio che metterà al centro i vari temi che ho accennato, quello della sostenibilità, della lotta all'autonomia differenziata, ma anche quello del sovranismo da sconfiggere perché noi abbiamo bisogno di un'Europa più federale e più forte, altrimenti nei prossimi anni non conteremo nulla. Non sono mancate le frecciate agli avversari politici a cominciare dalla giunta a Quaroli nel giorno delle dimissioni della dottoressa Nadia Storti da direttrice dell'azienda sanitaria pesarese. Si è dimessa, poveretta, perché non sapeva che fare, non ci sono indirizzi, non si sa che cosa fare, cosa devono fare i singoli ospedali, non ci sono risorse per la sanità territoriale e la dimostrazione è che la sanità marchigiana è nel caos. Non solo è peggiorata negli ultimi tre anni e mezzo perché sono aumentate le liste d'attesa, è aumentata la mobilità passiva, ma anche dal punto di vista organizzativo davvero non sanno che pesci pigliare. Siamo molto preoccupati e anche per questo credo che occorra costruire alla svelta un'alternativa, una vera riscossa. Fra presente e ipotetico futuro dell'amministrazione pesarese presente il candidato sindaco Andrea Biancani pienamente sostenuto dallo stesso Ricci. Uniti all'interno del PD, uniti nella coalizione e quindi siamo, credo che ci siano tutte le condizioni per vincere. Poi Biancani è un candidato popolare, conosce a menadito le questioni della città, è un ottimo amministratore, sta facendo un'ottima campagna e io quindi penso che qua le cose andranno bene. La destra pensava qua di, come dire, spugnare l'ultimo fortino e invece qua batterà il muso e da Pesaro partirà la riscossa per le Marche. Un Ricci che, come avete potuto ascoltare, non ha risparmiato frecciatine politiche nei confronti del centro-destra. Pronta la replica del candidato sindaco Marco Lanzi in occasione del taglio del nastro della sua sede elettorale. Il vero programma elettorale di Marco Lanzi arriverà il prossimo sabato, ma intanto, nel weekend appena trascorso, c'è stato il taglio del nastro alla sede elettorale della coalizione di centro-destra che supporta la candidatura sindaco dell'ex dirigente della Polizia pesarese. Candidatura sostenuta dalle due liste civiche Pesaro Svolta e Pesaro Giovani per Marco Lanzi sindaco. È una sede che rimarrà sempre aperta perché io invito già da adesso, già da ora, tutti i cittadini, venite qua a trovarci nella sede. E faccio anche un altro invito. Chi voglia veramente dare un contributo attivo alla mia lista civica è ben accetto, che poi la mia è una vera lista civica, come una vera lista civica a quella dei giovani, non come quella di Biancani o di Mila della Dona, che sono, scusate, sono liste civiche i loro dirigenti del PD, coloro che formano liste civiche, quindi mi sembrano delle liste civiche che di civico hanno ben poco. Il programma elettorale si costruirà passo dopo passo sull'ascolto dei cittadini. Non sarà un programma definitivo, perché io l'ho detto, ma ci credo, io da lunedì comincio a girare i quartieri, a ascoltare i bisogni, le esigenze dei cittadini, quindi sarà un programma in divenire che si costruirà sui bisogni dei cittadini. Permettetemi di dire una cosa, io sono scandalizzato, sono rimasto colpito veramente dal caso Soria, è il caso veramente simbolico di come non deve essere governata una città. Una città non può essere governata in questo modo, senza ascoltare i bisogni e le esigenze dei cittadini. Dal caso Soria, che non rispetterebbe la linea del costruire sul costruito, ad una vocazione turistica che a detta di Lanzi non può ancora dirsi tale in questa città. Io quello che vorrei tantissimo, che Pesola diventasse una città turistica 360 giorni l'anno. È una città che amo, una città dove vivo, ormai da 30 anni vivo, dove ho messo su famiglia. Io ci credo tantissimo, perché abbiamo una costa e un'entraterra meravigliosi. Dobbiamo fare sinergia con tutti i territori, con Fano, Urbino, con tutti i territori della provincia. L'inaugurazione della sede elettorale è arrivata all'indomani della cena popolare di Matteo Riccia Campanara con 1.600 pesaresi. Chiusura del tour di pane politica che non ha risparmiato frecciata un centrodestra etichettato di mentalità piccola e che a Pesaro sbatterà di nuovo il muso. Sono sorpreso di una cosa, sono arrivato allibito quando durante uno degli ultimi consigli comunali Ricci ha dichiarato che lascia una città perfetta, fantastica, che l'opposizione non avrà nessun argomento per la sua campagna elettorale. Ma in che mondo vive Ricci? Vive in questa città o sta passando tutto il tempo a promuovere il suo libro in giro per la provincia, in giro per l'Italia? Vuol dire che non vive più in questa città, perché io ho risposte completamente diverse da parte dei cittadini, non tantissimi problemi, ma tantissimi. Io per tutta la vita, anzi negli ultimi dieci anni soprattutto ho fatto volontariato oltre a lavorare e mi sono reso conto che esistono tanti problemi. E quando addirittura il primo sindaco eletto a Pesaro direttamente dai cittadini, Oriano Giovannelli, quindi non un partito del centrodestra, non io che sono un candidato sindaco civico, ma un esponente del partito del PD, Oriano Giovannelli, dichiara che questa amministrazione e il sindaco Ricci non usano più le parole chiave come socialità, come aiutare veramente le associazioni, come fare una vera cultura, come creare una cultura strutturale, io sono senza parole. E dalla candidatura di Lanzi passiamo a quella di Biancani che trova sostegno anche nel Movimento 5 Stelle che ha presentato il suo programma elettorale. Quella del Movimento 5 Stelle è una Pesaro che cambia, che piace, che partecipa, che innova, che corre, che accoglie. Una Pesaro sostenibile e inclusiva. Questi gli otto punti focali di un programma elettorale costruito in un lavoro lungo otto mesi, già sfogliabile online e che sarà discusso ogni sabato con i cittadini dal Movimento 5 Stelle pesarese che si presenta all'elezione amministrativa dell'8 e 9 giugno sostenendo la candidatura a sindaco di Andrea Biancani. Una Pesaro che cambia, Pesaro sostenibile, una Pesaro che piace, quindi sono tutti i temi, una Pesaro che partecipa, sono tutti i temi che noi in questi anni comunque abbiamo portato avanti e siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in questi quattro anni e ringraziamo anche il grande lavoro fatto con tutta la maggioranza di Pesaro. diciamo che per me a Pesaro la svolta è già avvenuta, è avvenuta quattro anni fa e quindi tutto questo a me mi rende felice, siamo molto contenti del candidato sindaco Andrea Biancani perché lo vediamo molto vicino alle nostre idee politiche, il fatto di essere molto coinvolgente con i cittadini, voler tener conto dei quartieri, quindi per noi tutti argomenti che sono fondamentali, che da anni diciamo e noi oggi abbiamo tanto da raccontare alla cittadinanza, tutto quello che abbiamo fatto all'interno del Consiglio Comunale e anche dell'amministrazione comunale e abbiamo anche tanto altro da presentare per il futuro perché comunque come città ci sono tante cose da dover migliorare. Dai, insomma, questo movimento è partito che è un po' come eravamo dei cittadini che si mettevamo a disposizione dell'amministrazione, però in questi anni abbiamo fatto, siamo maturati e consapevolmente abbiamo insieme realizzato un progetto bellissimo per la nostra città. Biancani in municipio al fianco di un Movimento 5 Stelle di Pesaro sostenuto dalla coordinatrice provinciale Marta Ruggeri. Movimento 5 Stelle che presenta l'assessora Francesca Frenquellucci come capolista di un gruppo che ha presentato i tanti impegni mantenuti sul lavoro già intrapresi da anni con Lorenzo Lugli, Mauro Rossi, Maurizio Micheletti, Claudio Vanzolini, Francesca Biagioli in una squadra rafforzatasi con le rappresentanze giovanili di Mattia Galeazzi e Francesco Rossini. Un programma trasversale che spazierà dall'innovazione tecnologica alla revisione del PRG dalla partecipazione attiva alle politiche ambientali e culturali. Il programma elettorale nasce dal sondaggio online e poi abbiamo anche avuto lo sportello partecipazione in questi anni quindi anche quello ci ha aiutato perché ascoltando il cittadino abbiamo capito le esigenze e lo potrete trovare online da sfogliare il programma e in più ci sarà un QR code. Cosa, un po' per essere diversi dagli altri anche perché noi abbiamo la nostra identità noi creeremo una sede virtuale quindi saremo direttamente con i cittadini online dai banchetti che faremo ogni sabato pomeriggio quindi dalle 4 alle 19 chi vuole venire in presenza saremo nei vari posti della città però chi si vuole collegare online che non può venire in presenza potrà ascoltarci e racconteremo il programma le nostre anche discussioni perché ce ne sono tante all'interno di una forza politica e quindi ci vedrete nel vero senso della parola di come noi ci comportiamo anche tra di noi e saranno quei 20-30 minuti che uno se vuole online si può collegare Ed ora lasciamo la politica andiamo alla cronaca all'alba di questa mattina un autocarro ha preso improvvisamente fuoco sulla superstrada Fano Grosseto all'altezza dello svincolo per Calcinelli alle 5.30 i vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti spegnendo le fiamme con liquido schiumogeno il conducente del mezzo era riuscito ad uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo prima del propagarsi del rogo l'operazione ha richiesto la temporanea chiusura del tratto di superstrada compreso fra Calcinelli e Serungarina vigili del fuoco che in mattinata hanno anche sedato un incendio potenzialmente pericoloso riguardante un container contenente polveri di metallo presso l'industria TVS di Fermignano all'auditorium Scavolini di Pesaro si è tenuta la terza edizione degli stati generali dell'accessibilità edizione che nell'anno di Pesaro capitale della cultura ha fatto convergere tanti esempi di buone pratiche inclusive provenienti un po' da tutta Italia e ha acceso la riflessione sul nuovo piano di eliminazione delle barriere architettoniche la terza edizione degli stati generali dell'accessibilità si fonda con Pesaro 2024 per creare una capitale italiana della cultura accessibile così l'auditorium Scavolini sabato scorso è diventato centro nevralgico delle riflessioni sulle evoluzioni delle politiche di accessibilità a livello nazionale portando nel nuovo Palasport ospiti e interventi da tutta Italia fra che esistono i buoni prassi di modelli virtuosi messi a terra proprio nei luoghi della cultura dai teatri ai musei fino ai parchi stati generali quest'anno coordinati dalla giornalista Rai Paola Severini Melograni autrice del programma di inclusione sociale o anche no Pesaro capofila di un'accessibilità che nell'ultimo anno ha visto una svolta radicale con la possibilità di mettere a terra il PEBA ovvero il piano di eliminazione delle barriere architettoniche un piano che servirà a pianificare il lavoro nei prossimi anni oltre 60 milioni di euro di interventi pianificati programmatiche dovremo pianificare e programmare per risolvere il tema delle barriere architettoniche a Pesaro abbiamo oltre 800 chilometri di percorsi pedonali un grande strumento di pianificazione ci sarà utile per risolvere finalmente il tema delle barriere architettoniche quest'anno parte da Pesaro la rincorsa per la consapevolezza per la responsabilità consapevolezza e responsabilità che ci permetterà di rendere Pesaro davvero più inclusiva ed accessibile questo risultato è stato molto importante considerate che il PEBA è una legge del 1986 e quindi arrivare all'unanimità ad avere questa approvazione direi che è il risultato più importante ma che è un punto di partenza perché poi adesso per metterlo in pratica e realizzare il PEBA abbiamo un lavoro che sarà un lavoro di anni e di tante risorse perché servono tanti milioni di euro sta di fatto che anche l'approvazione del PEBA ha messo in circolo nella città una riflessione molto molto importante che passa dall'accessibilità motoria che prima o poi nella vita incontriamo tutti se non altro perché si diventa vecchi anziani per cui l'inciampo verso una barriera architettonica la incontriamo ma da quella architettonica siamo passati ad altre riflessioni le barriere sensoriali le barriere comunicative relazionali questo è stato il frutto più grande di questi anni direi non solo di quest'ultimo di questi tre anni non solo il PEBA l'ultimo anno a Pesaro ha prodotto anche la diffusione dei vademecum della carta della capitale della cultura accessibile una carta denominata carta della capitale della cultura accessibile che ho proprio redatto insieme ai cittadini che erano presenti al tavolo della cultura degli stati generali di giugno 2023 quindi quei cittadini in quella discussione intorno a quel tavolo li ho richiamati tutti ho detto beh vediamo di redigere un documento che si è condiviso quindi l'abbiamo scritto insieme io l'ho già l'avevo presentato a dicembre del 2023 a tutta la cittadinanza ed è stato pubblicato sul sito della capitale e in questo momento viene applicato ovviamente da tutti i progettisti della capitale e ci ha messo anche qui in collegamento con tutte le associazioni e anche con tutti i comuni dell'entroterra perché la riflessione si è allargata a tutta la provincia politiche di accessibilità che una volta ottenuti finanziamenti e studiata la pianificazione invocano anche l'accompagnamento di un cambio di prospettiva culturale la più grande difficoltà è corresponsabilizzare tutti sul tema dell'accessibilità mentre una pubblica amministrazione o un comune adotta degli strumenti per risolvere questi problemi la gran parte delle difficoltà l'abbiamo anche sui privati cioè tanti di noi anche nel nostro piccolo quotidiano spesso non rendiamo facile la vita a tutti quindi rendendo non accessibili i nostri locali i nostri esercizi commerciali non rendendo accessibili i nostri condomini le nostre case e quindi questo è una delle difficoltà più grandi soprattutto nelle barriere culturali che quotidianamente noi mettiamo contro insomma alle persone dobbiamo spostare lo sguardo e pensare quello che funziona nella persona e quindi se una persona funziona solo un braccio io devo dare la possibilità a quella persona di usare quel braccio al massimo delle sue possibilità e nel fare quelle abilità con quella parte di sé qualsiasi sia al massimo dello sviluppo dovrà partecipare sempre di più alla vita sociale e questo ha a che fare molto con la visione della persona e per cambiare la visione della persona bisogna parlarne la cultura si fa così e come anticipato nella nostra intervista nel telegiornale di venerdì scorso a Riccardo Pozzi l'assessore di Pesaro nei giorni scorsi la statua della Madonnina dei Cappuccini è tornata a brillare grazie all'impegno del Lions Club Pesaro della Rovere e la sinergia con l'azienda Tecno Impianti di Vallefoglia che hanno installato sul bordo del Cavalcaferrovia pesarese i riflettori che la illumineranno rendendola come in passato quel simbolo di accoglienza e speranza che dava il benvenuto anche nella notte a tutti coloro che transitano sul Cavalcaferrovia un intervento che completa quello che la scorsa estate ha permesso di ripristinare la corona della statua sfregiata dal terremoto di novembre del 2022 in un weekend di temperature da antipasto dell'estate le spiagge pesaresi si sono presentate non solo affollate ma anche estremamente pulite grazie all'operazione straordinaria di raccolta rifiuti messa in atto da Marche Multiservizi andando verso l'estate di Pesaro capitale della cultura si potenzia anche il servizio di pulizia delle spiagge libere di Marche Multiservizi che per l'occasione si è dotata di un nuovo mezzo speciale munito di setaccio selezionatore in grado di raccogliere materiali abbandonati in spiaggia preservando la sabbia dell'arenile che dunque non viene asportata un'operazione che ha permesso di ripulire 60.000 metri quadri di spiagge libere in pochi giorni recuperando 20 tonnellate di rifiuti tra sigarette plastica materiale legnoso ramaglie alghe e vetro infatti abbiamo preso dai nostri cugini di Falconara una macchina operatrice in grado di setacciare pulire la spiaggia togliere tutti i residui e lasciare sul posto la sabbia senza portarla via quest'anno è un'occasione importante per Pesaro e quindi Marche Multiservizi mette in campo tutte le forze necessarie il massimo impegno chiediamo un contributo anche dai cittadini per tenere pulita in ordine la città e la spiaggia quest'anno con questo tipo di macchinario diamo una bella svolta anche alla pulizia della spiaggia quindi è un contributo in più abbiamo raccolto circa 60.000 metri cubi di rifiuti 20 tonnellate di materiale abbiamo pulito tutta la parte sotto monte la parte di Viale Trieste dove c'è il lito dei Carabinieri e anche la Baia Flaminia dove comunque sono molto fruite anche le spiagge libere e quindi direi che anche per i turisti che verranno in occasione delle festività troveranno quest'anno come tutti gli anni ma quest'anno in modo particolare una spiaggia molto pulita spiagge più pulite maggiore decoro anche nella passeggiata di Viale Trieste dove è stata inaugurata l'installazione fotografica che copre il degradato complesso dell'ex colonia di Villa Marina l'opera realizzata da Nicola Perugini e Tommaso Fiscaletti ripercorre attraverso immagini la storia dell'emblematico edificio di epoca fascista unendola a contesti e riflessioni che vanno oltre la dimensione pesarese un'opera artistica che vuole infatti connettere i sentimenti di innocenza dei bambini ospiti della colonia e la loro gioia per il mare con le amnesie collettive del passato coloniale dell'Italia e delle sue questioni razziali è morto all'età di 83 anni Adriano Aprà regista critico e scrittore che per nove anni è stato direttore della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro dal 1990 al 1998 un lutto per il quale hanno espresso cordoglio CNA cinema audiovisivo Marche e Pesaro Film Festival con cui Aprà collaborò fin dalle primissime edizioni e proprio questa mattina CNA cinema audiovisivo Marche ha firmato un protocollo d'intesa con PAC Performing Arts Center diretto dai registi Gian Piero Solari e Paola Galassi un nuovo accordo di collaborazione che prevede lo scambio di attività e progetti nel mondo dello spettacolo con particolare attenzione all'aspetto della formazione la collaborazione si orienterà non solo sulle figure attoriali ma anche su progetti formativi che riguarderanno le maestranze sia nel mondo teatrale che in quello cinematografico ed ora un'informazione di servizio per tutti i frequentatori del mercato settimanale pesarese del San Decenzio da domani 16 aprile infatti entra in vigore l'ordinanza comunale che prevede come il nuovo parcheggio di via Mirabelli adiacente al cimitero diventi con sosta a disco orario per un massimo di 120 minuti dalle 9 alle 13 quindi attenzione l'ordinanza sarà valida solo il martedì e nei giorni di mercato straordinario e come sempre chiudiamo l'edizione del lunedì parlando di sport con le notizie che ci portano a parlare della doppia vittoria sia in casa appunto WL che in casa Vispesaro e che alimentano chiaramente le speranze sia del basket che del calcio è un weekend di speranza quello che si lasciano alle spalle WL e Vispesaro la prima nel sabato sera della Vitrifigo Arena ha battuto Pistoia 89-82 centrando per la prima volta due vittorie consecutive che le consentono di continuare a sperare nella salvezza 24 ore dopo la Vispesaro ha battuto 1-0 il Perugia al Benelli mettendo un cerotto all'emorragia di 5 sconfitte consecutive e ritrovando la vittoria che mancava da due mesi a decidere il match il primo gol tra i professionisti di Gianmarco Neri che trova di testa su calcio d'angolo la rete che vale 3 punti e che tengono la vista al terzultimo posto incollata alle squadre che la precedono contro Sestri Levante Juventus Next Gen le ultime due gare di un campionato che se vinte consentirebbero di alimentare il sogno della salvezza diretta o quantomeno di giocare play-out in posizione di favore paracadute dei play-out che non ha la WL che nelle ultime tre gare di campionato si gioca tutto intanto la vittoria su Pistoia ha consentito però di rosicchiare due punti a Varese Treviso che precedono i biancorossi e sulla Nutribullet si avrebbe pure il vantaggio degli scontri diretti quattro punti avanti a Pesaro c'è invece Cremona che si giocherà lo scontro diretto alla Vitri Frigo Arena insomma giochi complicati ma ancora aperti nel basket di Serie B ha invece conquistato i play-off Little Service Loreto Pesaro decisivi i due punti ottenuti ai danni del Palestrina 98-85 che mandano aritmeticamente i ragazzi di Foglietti alla prossima fase della stagione passando a rugby sul campo di Muraglia la Fiorini Pesaro non riesce ad avere la meglio su una borsa ribadia determinata e a caccia di punti salvezza i veneti chiudono il match sul 24-31 e i pesaresi non bastano due mete di tontini e una di sacchetto per evitare la sconfitta arriva un punto in classifica che ancora non garantisce la salvezza aritmetica con tre partite ancora da giocare per chiudere la stagione nella pallavolo campionato già archiviato da settimane per la Megabox Vallefoglia che però questo weekend ha vissuto delle emozioni forti dell'annuncio del ritiro dalla pallavolo di Tatiana Koshleva dal mondo Megabox il grazie alla 35enne bielorussa che dopo un grande palmarès personale ha giocato le ultime tre stagioni a Vallefoglia da capitano delle Tigri trascinate ai traguardi della prima salvezza in Serie A e poi dei primi play-off eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma continuate a stare con noi perché sono tante le cose che vi dobbiamo raccontare a partire dalla nuova puntata di Cecapo Obiettivo Salute questa sera alle 21.20 parleremo di come curare al meglio la spalla e poi verso le 22 di questa sera trasmetteremo integralmente la partita del Fiorini Pesero Rugby contro il Rugby Badia 1981 domani invece vi aspetto con il nostro appuntamento della Rassegna Stampa quindi puntuali alle 7.20 sul canale 80 e anche sulla nostra diretta Facebook e poi domani un'altra puntata queste puntate di Amministrando che vanno sempre più a intensificarsi vi aspettiamo quindi alle 21.20 domani perché parlerà l'assessore comunale PD Pesaro Andrea Nobili e ci sarà con lui anche Luca Pandolfi di Fratelli d'Italia grazie mille per averci seguito anche questa sera continuate a restare connessi con Rossini TV non solo sul canale 80 ma anche sui nostri social buona serata grazie mille